No, 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 fritto, Carlo, Carlo ti prego non farmi la multa, guarda questo mese ne ho già pagate due, per favore non farmi la multa, io lo volevo pagare il tagliando te lo giuro, ma non riuscivo a trovare parcheggio, allora mi sono detta ma perché non vado a trovare parcheggio al parcheggione giù, che lì c'è sempre, e infatti ho trovato parcheggio al parcheggione giù, ma quando sono andata a pagare il tagliando io non avevo le monete, io guarda lo so come funziona, le porto sempre le monete, allora mi dico beh vabbè vado al bar dei miei amici così me li cambiano, ma il bar dei miei amici il lunedì è chiuso, così dico ok, non fa niente, vado al bar a fianco, quello dei cinesi, gli do i soldi, mi danno le monete e vado alla macchinetta a prendere il tagliando del parcheggio, ma la macchinetta era rotta, io ti giuro che era rotta, così passa un signore, un vecchio, gli chiedo dov'è la prossima macchinetta e lui mi dice in fondo alla strada, dall'altra parte del piazzale, io non ci vado, io non vado a quella macchinetta fritto, Carlo non ci vado perché uno mica può girare per tutta Roma per cercare una macchinetta funzionante, eh? ti prego, ti prego non farmi la multa ma certo, non sarebbe giusto per gli altri no, lo sai che sei te, ti sei fritto, fritto, ti sei fritto!